oggi vorrei ordinare un piatto di pasta speciale sapete ho un amico che si chiama giuseppe di martino che ha pensato il prodotto la pasta di barbie la nonna lo dice sempre la pasta di martina è strepitosa prepareremo un piatto che si chiama barbie pasta surprise cosa ne pensa la nostra piccola chef è un piatto fantastico grazie stino oggi ho imparato tantissime cose perché co barbie per essere tutto ciò che desideri